Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Italpress Economy, settimana ricca di notizie, settimana del primo maggio, parleremo a lungo dopo di lavoro, ma cominciando dall'Italia c'è una buona notizia che ad aprile l'inflazione rallenta. Cominciamo da qui. Buone notizie per le famiglie italiane. Nel mese di aprile l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% su base annua. A marzo l'incremento era stato dell'1,2%. Il lieve rallentamento dell'inflazione su base tendenziale si deve alla flessione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, dei servizi di trasporto, dei beni non durevoli e dei beni alimentari non lavorati. In crescita invece i prezzi dei tabacchi, dei servizi decreativi, culturali e per la cura della persona e dei beni energetici regolamentati. Su base annua il carrello della spesa continua anche ad aprire la sua discesa e tocca adesso il 2,4%. Nell'area euro l'inflazione, secondo le stime di Eurostat, dovrebbe attestarsi al 2,4%, stabile rispetto a marzo. Sono i servizi a registrare il tasso annuo più elevato, con un incremento dei prezzi del 3,7% seguiti da alimentari, alcol e tabacco. Via libera dal Consiglio dei Ministri alla revisione di IRPEF e IRES nell'ambito della delega fiscale. Sul fronte dell'IRPEF si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni che riguardano il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie. Inoltre, in vista dell'introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, è prevista l'erogazione a gennaio 2025 di un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti, con reddito non superiore a 28 mila euro e con coniuge e almeno un figlio a carico. Per i redditi del lavoro autonomo si introduce come criterio generale di determinazione del reddito il cosiddetto principio di onnicomprensività. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione all'attività e l'ammontare delle spese sostenute per il lavoro. Sul fronte dell'IRES si interviene con la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e la modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa. Rafforzare l'occupazione dei giovani, in particolare nel mezzogiorno, è uno degli obiettivi del decreto legge sulle politiche di coesione approvato dal Consiglio dei Ministri. Il Premier Giorgia Meloni. La principale di queste misure è l'esonero dal pagamento del 100% dei contributi previdenziali per due anni se si assumono giovani sotto i 35 anni che non hanno mai avuto contratti a tempo indeterminato a patto che vengano assunti con contratto stabile. Cioè se assumi un giovane a tempo indeterminato per due anni allo Stato non devi nulla nel limite di 500 euro al mese. Vale in tutta Italia. Nelle regioni del mezzogiorno il provvedimento vale però anche per gli over 35 che sono disoccupati da almeno due anni. La decontribuzione vale per le donne, vale per le donne a prescindere dall'età su tutto il territorio nazionale con maggiore accessibilità al beneficio per le donne che vivono nelle regioni del mezzogiorno. Inoltre il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella zona economica speciale unica del mezzogiorno. Previsto uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascun lavoratore assunto per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti. Per le iniziative di autoimpiego viene rafforzata la misura Resto al Sud con un contributo fino a 200 mila euro per chi avvia una nuova attività. Ora le notizie dall'Europa, ne abbiamo parlato spesso nei nostri focus, nei nostri servizi, abbiamo raccontato che cos'è questo patto di stabilità, le discussioni sul patto di stabilità che di fatto è nuovo ma non piace tantissimo al governo italiano. Comunque c'è stato un via libera formale al nuovo patto di stabilità dell'Unione Europea. Vediamo. Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo ai tre atti legislativi che riformeranno il quadro di governance economica e fiscale, il nuovo patto di stabilità e crescita. L'obiettivo principale della riforma è garantire finanze pubbliche sane e sostenibili, promuovendo al contempo una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri attraverso riforme e investimenti. L'Unione Europea intende ridurre il rapporto debito-PIL e i disavanzi in modo graduale, realistico, sostenuto e favorevole alla crescita, proteggendo al tempo stesso gli investimenti in settori strategici come quello digitale, green o della difesa. Inoltre il nuovo quadro di regole offrirà uno spazio adeguato per politiche anticicliche e aiuterà ad affrontare gli squilibri macroeconomici esistenti. Secondo le nuove norme, a tutti gli Stati membri verrà chiesto di preparare un piano strutturale di bilancio nazionale a medio termine che si estenderà su 4-5 anni in base alla durata della legislatura nazionale. Nei loro piani gli Stati membri si impegneranno a seguire un percorso pluriennale di spesa pubblica e spiegheranno come realizzare investimenti e riforme che rispondano alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo. Il Parlamento europeo, nell'ultima sessione plenaria a Strasburgo della legislatura, ha approvato la riforma della politica agricola comune. Gli eurodeputati hanno dato il via libera al progetto di legge con le modifiche tecniche proposte dal Comitato Speciale Agricoltura del Consiglio e approvate dalla Commissione per l'Agricoltura del Parlamento. Il regolamento deve ora essere approvato dal Consiglio europeo. La revisione della PAC modifica le norme relative a tre condizionalità ambientali alle quali gli agricoltori devono attenersi per ricevere finanziamenti. Fornisce inoltre maggiore flessibilità ai Paesi membri per concedere esenzioni dalle norme in caso di problemi nell'applicarle e in caso di calamità naturali. Le piccole aziende agricole di dimensioni inferiori a 10 ettari saranno esentate dai controlli e dalle sanzioni in caso di inosservanza di alcune norme. Gli Stati membri inoltre avranno più margine di manovra nell'applicazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola al di sopra del 5% rispetto al 2018. E subito dopo l'Europa, questa volta c'è un po' più anticipata rispetto alle abitudini del nostro format l'intervista, ma spesso anche qui in questo punto l'intervista perché parliamo subito del rapporto fra Europa e Italia su un tema molto popolare che è quella della direttiva europea sulle case green ed è collegato con noi via Skype Giorgio Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e grazie. Allora, abbiamo 15 minuti, cerco di parlare poco e far parlare più lei. L'ho detto prima, l'Italia, se non l'ho detto lo dico adesso, ha votato contro la direttiva europea sulle case green, grande polemica politica perché siamo in campagna elettorale per l'europea, ma insomma l'abbiamo detto anche che cosa prevede questa normativa e volevo sapere se anche Confedilizia contraria, semmai perché. Confedilizia l'ha contrastata addirittura dalle sue boxe nel 2021, quando era più pesante della versione finale, perché all'inizio prevedeva il divieto di vendere e affittare immobili senza certe caratteristiche, poi per un anno e mezzo c'è stata la versione che prevedeva l'obbligo di arrivare a determinate categorie energetiche, classi energetiche entro pochi anni, ora c'è l'obbligo per gli Stati di trovare il modo di ridurre mediamente, per esempio il primo step del 16% il consumo medio di energia degli immobili, è comunque negativo a nostro avviso e noi siamo soddisfatti del fatto che il governo abbia votato contro, tra l'altro è un voto contrario che è coerente col voto contrario dei tre partiti di maggioranza nella sessione plenaria del Parlamento europeo e con il lavoro che è stato fatto comunque per ridurre la portata impositiva di questo provvedimento. Noi siamo per cambiarla come per fortuna e ne sono lieto, ha detto il Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento a Pescara nella conferenza programmatica, cambiarla, modificarla, renderla attuabile prima di attuarla, ci sono due anni di tempo e vanno sfruttati per quello. Ecco noi ne avevamo parlato la seconda volta e lei viene nel multimediale di Italpes, abbiamo fatto primo piano, abbiamo spiegato un po' il lavoro complessivo com'è tipico del linguaggio di quella rubrica di confedizia, abbiamo ragionato un po' sul nostro patrimonio anche noi immobiliari, un patrimonio molto complesso quindi insomma ci aveva raccontato le diversità delle case, dei territori, dei patrimoni storici, com'è difficile poi applicare, andiamo al dunque, le faccio una domanda in più su questo, la polemica politica qual è di fatto, non è solo sul merito, ma che la transizione ecologica anche su un tema come questo delle case, per quanto giusta culturalmente, per quanto giusta in termini di sostenibilità, difficilmente si può applicare con una norma centrale generalizzata e bisogna che si declini anche sui tempi e le modalità sulle esigenze specifiche dei singoli paesi, giusto? È proprio quello il problema, uno dei problemi perché un conto è applicare questa normativa in paesi che hanno già fatto tante cose, perché hanno un clima diverso, perché non hanno i borghi che abbiamo noi, per fare solo un esempio, perché non hanno la proprietà immobiliare così diffusa, non hanno la proprietà condominiale, hanno tante caratteristiche diverse, quindi il difetto principale di questa direttiva è di andare nello stesso modo in tutte le direzioni, ma comunque il difetto a monte è quello di imporre e non di spingere con un po' più di gentilezza a fare le cose, perché l'efficientamento energetico è un interesse degli stessi proprietari, ma se lo si impone si fa un danno doppio, da un lato si mettono i proprietari contro il green, perché questo avviene quando c'è questo approccio, dall'altro si rischia di svalutare in un colpo solo un intero patrimonio immobiliare, perché poiché abbiamo tanti immobili non efficienti energeticamente non si può dire ai proprietari da un giorno all'altro tutto questo è illegale e cambiato, bisogna arrivarci piano, con buon senso e per questo spero che la direttiva nella prossima legislatura europea venga cambiata. Allora ne parleremo dopo il voto, dopo il voto dell'8-9 giugno, a proposito del rapporto fra Confedilizia e Governo, cosa ne pensate dell'intervento del Governo sugli effetti brevi? Quello l'abbiamo criticato, pur essendo inferiore a ciò che veniva richiesto da alcuni, per esempio la categoria degli albergatori per parlare chiari, abbiamo criticato il fatto che si aumentasse la tassazione, sia pure limitatamente, l'aumento della cittura di secca dal 21 al 26% per chi ha più di un certo numero, più di una casa affittata per periodi brevi e nuovi adempimenti insomma che hanno la motivazione della sicurezza ma la realtà che vogliono scoraggiare. Noi continuiamo a dire, anche sulla base di esperienze straniere, vedi New York che non bisogna disincentivare ciò che si ritiene eccessivo, gli affitti brevi in alcune città, ma incentivare ciò che si vorrebbe di più e cioè gli affitti lunghi, quindi con meno tasse, per esempio si può azzerare l'Imo in particolare per chi fa contratti a canone concordato, l'abbiamo proposto più volte e dando soprattutto più garanzie ai proprietari che hanno una terribile paura di non rientrare in possesso degli immobili se fanno affitti lunga durata, bisogna tornare a dare loro certezze e garanzie e le cose andranno meglio. In parte ha risposto alla domanda che le volevo fare in più, che cosa promuovete voi per rilanciare gli affitti, ma se vuole aggiungere una cosa che non abbiamo detto in termini dialettici lo può fare diciamo a concludere questo pezzettino di ragionamento delle interviste. Ci aggiungo un pezzettino apparentemente slegato degli affitti abitativi ma in realtà lo è perché la locazione è tutta un insieme, cioè le locazioni commerciali noi speriamo che venga presto, data attuazione, è una cosa che avevamo proposto e che è stata prevista nella riforma fiscale e la cittadale secca anche per gli affitti commerciali non abitativi, consentirebbe di aiutare il commercio, di aiutare, di combattere la desertificazione delle città, dei locali commerciali ma anche di aiutare l'accesso all'abitazione perché rinascerebbero dei luoghi che stanno morendo. Quindi questa è un'altra cosa che abbiamo proposto, ottenuto ma va attuata. Allora un argomento su cui abbiamo speso, com'era la canzone, se la ricorda? Fiumi di parole, non mi ricordo più, è Gialisse, non vorrei fare gaffa, mi criticano su internet, insomma. Io mi ricordo di Gialisse per tutti gli anni che vogliono tornare a Salremo ma non mi ricordo più il titolo della canzone. Però Giorgetti, il ministro, insomma sul super bonus al 110%, penso che abbia detto tutto il male possibile che si poteva dire negli ultimi mesi anche pubblicamente, con numeri, con definizioni, un mostro nato male fin dall'inizio addirittura, mentre invece io sono fra quei giornalisti che sono onesto all'inizio, l'aveva presa durante il Covid come una misura necessaria per rilanciare un mondo che era moribondo per fare un gioco di parole. Ma il vostro giudizio, adesso abbiamo capito che il danno sui conti pubblici è notevole, ma il vostro giudizio sul super bonus 110, scritto male o gestito male, e su incentivi di queste misure qual è? Sicuramente bisogna fare la distinzione tra il primo e il dopo, perché anche io, anche noi, siamo critici con chi adesso sta muovendosi contro e all'epoca non diceva nulla, ma anche perché all'epoca, cioè il 2020, da un lato era appunto ragionevole che ci fosse una misura shock, quindi non ordinaria per far ripartire l'intera economia, non solo l'edilizia, in un periodo di lockdown, di crisi totale. Dall'altro c'era un problema che questi dati che stanno uscendo adesso non li conosceva neanche la ragionaria generale dello Stato, tanto è vero che si sta ponendo in discussione addirittura il vertice di questa istituzione importante, quindi parlare dopo è più facile, parlare prima insomma l'hanno fatto in ben pochi, quindi per il futuro, quando ci sarà un punto a questa storia, l'accapo deve essere secondo noi un sistema ragionevole, ma stabile e duraturo di incentivi per interventi che si ritengono utili. Faccio l'esempio sia dell'efficientamento energetico, ma anche e soprattutto, mi permetto di dire, del miglioramento sismico degli edifici. Si può togliere qualcosa che c'è in tanti anni di bonus e incentivi e concentrare le risorse, quando ci saranno, su qualcosa di fondamentale importanza e secondo me la sicurezza degli immobili è davvero molto importante anche più del loro efficientamento energetico. Senta, voglio fare una domanda bis su questo tema, che è questo, io la faccio un po' più da giornalista politico, quali sono, che da giornalista economico, cioè è un po' una discussione sotterranea anche all'interno della maggioranza, non tanto sulla concezione generale, che sono tutti d'accordo con il ministro dell'economia, del governo, tra parentesi, insomma, ma come dire, per esempio ci sono forze politiche, come Forza Italia, che ragionano un po' su delle mediazioni, sui tempi, non diamo una cesura troppo rapida, troppo netta, troppo scioccante all'incontrario, perché poi ci sono una filiera di PMI coinvolte, una filiera di condomini coinvolti, una filiera di inquilini coinvolti che rimangono in mezzo alla strada e che vengono danneggiati ulteriormente dall'aver fatto troppo in una prima fase, ora niente all'improvviso. Volevo sapere cosa ne pensava lei, insomma. Questo è il vero problema, cioè quello delle situazioni pendenti, noi pure l'abbiamo evidenziato in tutti i modi, anche il Parlamento nelle audizioni, anche su quest'ultimo provvedimento che c'è in Senato di ennesimo intervento di limitazione del superbonus, salvare il più possibile situazioni pendenti, perché ci sono interventi in teoria formalmente non retroattivi, ma che di fatto lo sono. Bisogna salvare il più possibile chi si è fidato dello Stato e ha fatto delle cose che in quel momento erano consentite. Purtroppo quest'ultimo provvedimento e altri precedenti, di cui l'iniziativa di Forza Italia e altri di attenuare la morsa, questi ultimi interventi stanno peggiorando la situazione anche di chi legittimamente, rispettando la legge ha iniziato degli interventi, ha avviato delle, insomma, tante attività, soprattutto nei condomini, sono lunghe e complesse. Quindi questa è un'attenzione che va data ancora in queste ore sul provvedimento in Senato. Continuiamo sulla politica, adesso non voglio fare un'intervista politica, di solito il PES Economy è meno politico di primo piano, però è politica almeno in partenza. Io ho partecipato a decenni di talk in cui si parlava di tasse e di patrimoniali, lo dico molto genericamente, la patrimoniale è un baubau per i liberisti, per il mercato libero e quindi per i partiti che si ispirano a questa visione dell'economia, sembrerebbe quasi necessità, una necessità da alcuni partiti che si ispirano a una visione diversa, quindi soprattutto quelli della sinistra un po' più radicali, però se non mettete una patrimoniale, ma perché non mettere una patrimoniale, perché non tassare, tra virgolette, i ricchi? Lei dice, nei miei appunti, che la patrimoniali in realtà esiste già e vale 22 miliardi l'anno, e vorrei che questo me la spiegasse perché così ci aiutano i talk a dare una via intermedia, smettere di ideare fra x e meno x e nello stesso tempo se ci sono le condizioni a breve termine per una riduzione di questo prelievo, quindi voi non siete d'accordo con questa patrimoniale, mi sembra di capire. Beh, che ci sia una patrimoniale è difficile negarlo perché si chiama Imo e se io proprietario devo pagare un'imposta ogni anno per il semplice fatto che possiedo un bene, cioè un immobile, escluse la gran parte delle abitazioni principali, le cosiddette prime case, e devo pagare sia che quell'immobile mi produca un reddito, sia che sia lì a produrmi solo costi magari perché è scorduto chissà dove, quella non può essere chiamata che patrimoniale, tra l'altro era patrimoniale anche l'ICI che però valeva molto meno, 9 miliardi l'anno rispetto ai 22 del Limo introdotto dal governo Monti, quindi almeno spereremmo che ci fosse una precisazione da parte di chi chiede la patrimoniale, chiediamo altre patrimoniali dicono, visto che una almeno c'è già. Quanto a ridurla io spero che si possa piano piano qualcosina togliere, non mi illudo in grandi riforme o abolizioni o dimezzamenti, perché quando il pubblico, lo Stato e i comuni incassano poi difficilmente restituiscono, ma si può iniziare piano piano a dare un segnale di riduzione, se verrà fatto non so dirlo, ma so che noi continueremo a insistere perché avvenga. Senta, siamo stati bravi, ci manca ancora un minuto e 40, siamo in anticipo la nostra, ma ci siamo stati un po' come l'alta velocità quando funziona, e vuole aggiungere un qualcosa in questo minuto e mezzo che ci manca, che noi abbiamo toccato, un tema che resta a cuore, non so, gli interessi alti sul denaro, la BCE, i mutui, il mercato, questo è un tema, io per esempio un tema che tratto in continuazione e dico che è molto popolare e che stranamente il mainstream anche dei miei colleghi tratta poco, invece secondo me incide moltissimo sul rapporto fra gli italiani e la casa in questo momento, non so se l'è d'accordo. Sì, assolutamente, c'è qualche segnale positivo da quel punto di vista, però tarderà ad aversi una conseguenza positiva, l'aumento dei tassi dei mutui, è vero, siamo stati abituati a livelli bassissimi, ma l'aumento ha creato tanti problemi, intanto è che aveva il mutuo in corso e quindi è variabile e con difficoltà a pagarlo, ma anche pressione sull'affitto, quindi colgo questo spunto per dire che auspico che il piano casa annunciato dal Ministro Salvini e per ora limitato alle regolarizzazioni edilizie che dobbiamo vedere ancora come testo, possa prevedere anche un intervento, vi richiamavo prima le nostre proposte, ma di rafforzamento dell'affitto privato perché soprattutto poi quando i mutui crescono e c'è più difficoltà da acquistare, bisogna dare forza all'affitto privato, dare fiducia ai proprietari che hanno immobili perché li mettano sul mercato e consentano così il maggior possibile accesso all'abitazione. Certo, è giusto. Senta, io la ringrazio, grazie a Giorgio Spaziani-Testa, Presidente di Confederizia, sono temi importantissimi e sono un po' in essere, quindi io le faccio la proposta che magari dopo le elezioni europee, magari in autunno, in inizio dell'autunno, se vuole facciamo un fact-checking su queste cose che riguardano tutti i nostri concittadini, che dici? Sperando che ci sia qualche cambiamento in positivo, molto volentieri, accetto l'invito e ringrazio per l'intervista di oggi. Va bene, la ringrazio ancora e ci vediamo insieme il servizio sulle novità del mondo della tecnologia. I cittadini europei avranno a disposizione in tutta l'Unione una cartella clinica elettronica contenente le loro prescrizioni sanitarie, immagini e test di laboratorio. Nasce così un vero e proprio spazio europeo dei dati sanitari, dati che potranno essere condivisi in forma anonima per la ricerca. L'Europarlamento ha approvato il provvedimento che passa adesso all'esame del Consiglio. I pazienti potranno accedere ai dati sanitari in formato digitale, anche da uno Stato membro diverso da quello in cui vivono, e scaricare gratuitamente, se lo vogliono, la propria cartella sanitaria. I medici potranno consultare i fascicoli dei pazienti con il loro consenso, anche da altri Paesi dell'Unione Europea. I dati, inoltre, potranno essere utilizzati per la ricerca, le statistiche e l'elaborazione di politiche di settore, per lo studio di trattamenti, per le malattie rare, ma non per scopi commerciali. Siamo al momento del nostro focus, nella settimana del primo maggio non si può non parlare di lavoro, e quindi lo facciamo con il nostro Giuliano Zoppis, il nostro economista, che oggi è collegato via Skype, dove sei? Una baile di montagna, o sei alla tua casa? Senza più la privacy, eh? No, 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 sono nei due luoghi nativi, diciamo, da quelle parti. Viterbese, insomma, va bene, tra l'Alto Lazio e l'Umbria e la Toscana, in un posto indefinito, così, insomma. Allora, Giuliano, insomma, i giornali ne hanno scritto molto, il governo ha presentato queste norme sul lavoro, parte di un decreto specifico, parte del decreto coesione, in cui si parla ovviamente di decontribuzione per chi assume persone, uomini, donne, in certe condizioni specifiche di reddito, di condizioni familiare, e dall'altro si è molto discusso di questa piccola tredicesima, non tredicesima, di questo bonus di 100 Euro, che poi va a finire a gennaio del 2025, i sindacalisti, alcuni l'hanno chiamato già bonus Befana. Vuoi dirci come il nostro solito, prima la parte tecnica, poi facciamo le valutazioni politiche? Sì, costatava l'impossibilità di detassare per quest'anno le tredicesime, che ricordiamo è uno dei punti chiavi della delega fiscale del governo, l'esecutivo ha deciso di inserire questo bonus di 100 Euro, che inizialmente doveva entrare nella busta paga di dicembre, ma in realtà sarà in quella di gennaio per motivi di copertura, che ancora non abbiamo, la misura costa 100 milioni di Euro, e questo bonus ammonterà a 100 Euro per una serie di categorie di lavoratori, in particolare per le famiglie a malo reddito, concolte e almeno un figlio a carico, che abbiano un reddito sotto i 28 mila Euro. Ora, è una misura che sta facendo un pochino discutere perché? Per tre motivi, innanzitutto questo bonus di 100 Euro non sarà automatico, ma andrà richiesto da parte di chi ne ha diritto. Secondo sarà in qualche modo rapportato al periodo lavorativo del 2024 e terzo sarà tassato. E quindi, siccome la tassazione con le nuove aliquote fino a 28 mila Euro si aggira intorno al 23%, dobbiamo calcolare che questo bonus sarà tassato al 23%, quindi si ridurrà a spanne intorno ai 70-75 Euro. Questa è un po' la misura bandiera di questo decreto, ce ne sono anche altre. Ce n'è una abbastanza interessante che sono gli incentivi per l'assunzione delle imprese di giovani under 35 e di donne, c'è un range che va fra i 500 e i 650 Euro e anche per una categoria definita donne svantaggiate. Ci sarà un incentivo interessante di 650 Euro per chi assumerà giovani nelle ZES, la ZES è la zona unica speciale del mezzogiorno, in questo modo viene fatta. Una cosa interessante che riguarda i finanziamenti europei è la riforma dei fondi di coesione. Noi abbiamo a disposizione dal 2021 fino al 2027 43 miliardi di Euro che sono stati in qualche modo rabboccati dal Governo con altri 32 miliardi. Ebbene, di questa somma finora ne abbiamo speso l'1%. E' una somma enorme, il Governo ha deciso di cambiare registro e di inserire nuove procedure che richiamano in qualche modo quelle del PNRR, cioè cronoprogramma, controllo dei tempi di attuazione, un meccanismo per premiare o addirittura sanzionare le amministrazioni locali, regioni e altre che non sono in regola e poteri sostenibili del Governo. Quindi se l'amministrazione non realizza l'opera, che sarà finanziata dai fondi di coesione, subentrerà il Governo con i suoi poteri. Ci sono queste misure, ma ce ne sono anche altre due interessanti che se vuoi Claudio possiamo affrontare. Sì, prima di vedere le altre due misure, però a questo punto facciamo un primo bilancio politico. Io prendevo gli appunti prima perché avevo letto quest'articolo in cui Fitto parlava di 75 miliardi, mi sembra che coincida. Lo stesso Fitto ammetto che siamo a zero, quindi vuol dire che la prima domanda che ti faccio, chiaramente nei limiti del nostro tempo è questa, ma per quale motivo noi facciamo così tanta fatica a spendere soldi che ci sono e che servono per migliorare la qualità della vita delle persone e di interi territori che spesso vengono considerati non all'altezza da un punto di vista socio-economico e secondo l'indagine del Censis in Europa ci sono tanti territori di questo tipo e moltissimi sono in Italia e moltissimi, come sapevamo, nel nostro sud. L'altra è che ogni volta che c'è una misura l'analisi politica si divide in due. I governisti che dicono che è qualcosa di importante, anche se poco, perché la Premier è virtuosa, il Governo è virtuoso rispetto alla spesa pubblica e si fa quel che si può fare e le opposizioni che attaccano, non in modo smodato su questo, perché è chiaro che c'è consapevolezza che anche quei 60 Euro che dici tu, che Bombardieri, sindacalista importante, ha detto ma ci compriamo, non so cosa ha detto, un po' di pasta, di carne, un po' di verdure e arrivederci. Adesso si è fatto dei conti, ha fatto la spesa a Bombardieri, però che magari lo intervisteremo su questo tema, però al di là dell'ironia la montagna ha partito il topolino. Proviamo a trovare un po' un punto intermedio in queste visioni sempre sdoppiate della politica, che poi l'opinione pubblica non ci capisce più niente. Ma sì Claudio, il problema che accennavi è il fatto che non vengono spesi questi soldi e figlio di tante cause. Innanzitutto il fatto che molto spesso queste amministrazioni hanno una vita politica molto breve. La seconda che in qualche modo si prova ad affrontare è che molte volte il timore, la paura della firma sotto il progetto, che come sappiamo è un oggetto di riforma in qualche modo anche della giustizia civile, ha portato gli amministratori a non prendere queste decisioni. Quindi questo è un altro grosso problema. E poi ci sta un regime di appalti e subappalti che spesso non ha favorito la messa in opera di questi cantieri. Adesso vediamo, perché il PNRR pur con i suoi tentennamenti sta andando avanti se effettivamente questi 75 miliardi fossero messi a regime sarebbe sostanzialmente una grande vittoria e come quando in un cassetto trova l'improvviso 1000 Euro che può spendere e quindi questo sarebbe effettivamente un avanzamento grosso. Accanto a questo dei fondi di coesione ci sono due aspetti Claudio interessanti. Il primo, il governo intende dare una mano alla cosiddetta auto-imprenditorialità. Cioè coloro che vogliono mettersi in proprio, avviare un'attività e molto spesso è complicato farlo e ha inserito un cosiddetto voucher per chi compra per acquisto di beni per avviare la propria attività. Sono 30-40 mila Euro a secondo della localizzazione di queste imprese che attribuiranno un poco interesse a questa misura. Addirittura il 65 fino al 70% di questi fondi saranno a fondo perduto. Questa è una cosa interessante così come saranno agevolate le libre professioni e per la prima volta sono inseriti agevolazioni fiscali per quegli studi professionali che arriveranno ad aggregarsi fra loro, quindi danno una maggiore dimensione alla loro attività. Di fondo Claudio, se vogliamo esprimere un punto di vista complessivo, una filosofia complessiva, il governo sta facendo tanto, si tratta però di misure che in questo momento andrebbero messe a regime perché assistiamo in questi mesi a una ottima ripresa dell'occupazione, segnalata come hai visto Claudio nei giorni scorsi anche dal Presidente della Repubblica. L'occupazione sta crescendo, sta crescendo anche quella femminile, ci sono 500 mila posti di lavoro in più rispetto a un anno, però purtroppo i salari sono fermi, un po' perché tassati tra virgolette da quell'audiosa tasta che si chiama inflazione, un po' perché una politica complessiva di defiscalizzazione stenta ad avviarsi. Adesso vediamo, sì, con la distanzione delle tredicesime e anche con il ventilato progetto di tassare gli investimenti delle imprese, si possono liberare risorse per aumentare i consumi interni e quindi il potere di acquisto da parte delle famiglie. Allora, siccome il tema è complesso, prendiamoci un impegno già per venerdì prossimo di affrontarli questi numeri sul lavoro, per cui ha parlato appunto, hai ricordato tu anche il Presidente Mattarella, parlando anche di lavoro a tutto tondo per il valore che ha nella Costituzione e per il valore che deve avere per una democrazia come una nostra, se andiamo dentro i numeri vediamo le contraddizioni, le luci, le ombre e anche questo paradosso con i salari e approfondiamo anche la vicenda politica. Proprio per competenze di informazione, ma proprio pochi secondi, mancavano due cose fuori dalla parte tecnica, dirlo e poi lanciamo il servizio che viene? Sì, ti ho detto, la cosa interessante è questo dei voucher che sicuramente potranno essere, e l'altra cosa era questo sostegno, adesso è un po' tecnica Claudio, ma comunque diciamo anche per le libre professioni che alcune volte lamentano il fatto di essere dannentati rispetto al reddito fisso. Insomma, involontariamente l'abbiamo detto due volte, ripetito, quindi saremo stati sicuramente chiari che è una delle indicazioni editoriali del nostro programma fin da quando è nato. Io ti ringrazio, ti saluto, ci vediamo la prossima settimana, ma ci vediamo prima insieme, le novità sull'agri-food, una novità positiva, il Made in Italy verso un nuovo record per l'agroalimentare. Si profila un nuovo record per il Made in Italy agroalimentare. Nel 2023 le esportazioni hanno raggiunto i 64 miliardi di euro, circa il 10% sul totale delle vendite all'estero dell'Italia. Alla fine di quest'anno, come evidenzia Confagricoltura, potrebbero far registrare un ulteriore aumento in valore nell'ordine di 6 punti percentuali. Sulle prospettive dell'economia pesano le crescenti tensioni internazionali, l'aumento del costo dei trasporti navali e dei prodotti energetici, ma se le previsioni saranno confermate risulterebbe sostanzialmente colmato il divario nei confronti della Spagna. L'agricoltura italiana è stabilmente ai primi posti in Europa per valore aggiunto. Aggiungendo quindi ai punti di forza del settore industriale la qualità e l'eccellenza delle produzioni agricole italiane, risulta evidente che il settore agroalimentare del paese ha le potenzialità per diventare il numero uno al mondo. Per il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, le esportazioni possono salire nel medio termine fino a 100 miliardi di euro. È tutto per questa ricca, ricchissima puntata come sempre. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi e di averci seguito e vi diamo appuntamento da venerdì prossimo. Arrivederci. Grazie a tutti.